Ciao a tutti ragazzi, sono Vero91. Allora, ero a Siano in un cassetto che ho trovato queste. L'ho trovato in un cassetto. E mi stavo solo facendo vedere l'ho trovato a Siziano, in un cassettino a Siziano. Guarda, come sta? Peccato, è un po' rovinata, ma non importa. Un po' rovinata, ma non importa, ragazzi. Basta, ci vediamo in un prossimo video. Ciao.